E' ufficiale. Massimo Margiotta sarà il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Ellas Verona. Margiotta, classe 1977, è un dirigente sportivo ed ex calciatore di origine daianese, ma naturalizzato venezuelano. Infatti è nato e cresciuto e si è anche formato in Venezuela e poi è tornato in Italia all'età di 15 anni, a Raiano. Debutta nel 1994 con il Pescara in Serie B, con la maglia della squadra abruzzese e gioca altri due campionati cadetti. Chiudendo la sua esperienza con 42 presenze e 7 gol in tre anni. Ha giocato in Serie A con l'Udinese e ha fatto parte della nazionale Under 21 italiana. E ora il Verona lo ha voluto nel settore giovanile al posto di Giancarlo Filippini. La società infatti ha ringraziato Filippini per il lavoro svolto con abnegazione e passione, augurandogli il meglio per il proprio futuro professionale. E contestualmente il club ha informato che, a partire dal 1 luglio 2017, il nuovo responsabile del settore giovanile sarà Margiotta.